Oggetto di questa conversazione è il rapporto tra uomo e natura nel Medioevo. Si tratta di un tema di fondamentale importanza, tanto in quanto proprio questo particolarissimo aspetto ha contribuito alla creazione di un mito duro a morire, quello del Medioevo come epoca buia, quello dell'uomo medievale con la natura, è infatti sempre apparsa all'interno della tradizione culturale dell'Occidente, dall'umanesimo in poi, come una sfida persa in partenza. In realtà le situazioni non sono proprio del tutto sovrapponibili al mito del Medioevo che si è costruito sulla base della storiografia. Quando parlo di situazioni, parlo di situazioni effettive, così come ci vengono restituite dalle fonti. Il problema fondamentale è che una più serena e meditata riflessione sul rapporto tra uomo e natura ha, negli ultimi 50 anni almeno, provocato, determinato, una considerazione nuova e diversa del Medioevo. In un ottimo saggio sull'ambiente alto-medievale come tema storiografico, il medievista Paolo De Logu ha affermato che è difficile sottrarsi alla tentazione di mettere in rapporto almeno le due principali fasi dell'andamento climatico tra V e V secolo con l'evoluzione storica delle società europee. In quello stesso periodo. C'è quindi una singolare corrispondenza cronologica, secondo De Logu, tra la fase di raffreddamento e i processi di disgregazione dell'insediamento e del territorio, forse anche di declino demografico, che si registrano in Europa occidentale fra VI e VII secolo. Allo stesso modo, la fase del riscaldamento coincide con una riorganizzazione in età carolingia e, ancora più palese, l'esplosione dell'anno 1000 segna l'inizio di quello che sarà l'apogeo della civiltà medievale nei secoli XII-XIII. Questo per dire che il rapporto con la natura, lungi dall'essere una pura cornice esteriore e priva di riferimenti espliciti poi alla vicenda storica dell'Occidente medievale, costituisce al contrario un liquido di contrasto importante su cui misurare le diverse dinamiche di tutta l'epoca medievale. Proprio gli studi di storia del clima nel Medioevo sembrano ridare credibilità a una forma nuova di determinismo ambientale, grazie appunto alla perfetta sovrapponibilità della cronologia che da questi studi scaturisce con quella delle principali trasformazioni sociali, economiche, politiche, demografiche e culturali perfino della storia medievale, al punto che potremmo disegnare una storia dell'Occidente nei secoli di mezzo scandita dalle modificazioni dell'irraggiamento solare e dalle conseguenti oscillazioni del clima. Uomo e natura sono quindi strettamente legati anche se in quest'ottica deterministica il ruolo della natura appare addirittura preponderante rispetto alla volontà umana e alle sue realizzazioni. non possiamo esagerare infatti con queste spiegazioni monocausali di tipo deterministico e tuttavia nel Medioevo l'uomo quotidianamente faceva esperienza della sua debolezza, della sua fragilità nella sfida con l'ambiente con un atteggiamento che noi soltanto oggi mentre viviamo la pandemia del Covid-19 in qualche modo intuiamo in modo diverso rispetto ai noi stessi anche soltanto di sei mesi fa. La fragilità dell'uomo nella sfida con l'ambiente pone quindi l'uomo stesso in una posizione costituzionalmente subalterna che l'uomo moderno e contemporaneo fino a qualche mese fa, fino a qualche settimana fa non riusciva a concepire. Nel Medioevo la tradizione cristiana, biblica e patristica venivano rielaborate essi avevano consegnato una concezione positiva del creato che trova nel racconto della Genesi la sua espressione Dio crea il mondo, crea l'uomo e ogni creatura è ai suoi occhi cosa buona racconta la Genesi. Eppure l'esperienza quotidiana della natura implicita come vedremo poneva l'uomo medievale di fronte a uno scacco perenne a una vita breve dominata da malattie individuali e collettive a un ambiente fisico ostile e predominante a catastrofi naturali che di continuo contraddicevano l'ottimismo della Genesi. Per spiegare questa contraddizione tra una creazione buona e gli effetti nefasti dei rapporti con la natura che quotidianamente l'uomo del Medioevo poteva e doveva col suo malgrado sperimentare fu elaborata l'idea che Dio castiga gli uomini per i loro peccati anche se il creato è di per sé buono. Da tale concezione teologica derivava anche la mancata distinzione tra cause naturali e fattori antropici. Guerra, fame e carestie infatti erano tutte accomunate nella percezione medievale dei flagelli inflitti da Dio a una umanità peccatrice. Questa idea influiva pesantemente sulla qualità delle fonti che ci informano del rapporto tra uomo e natura nel Medioevo. Quelle fonti sono ecclesiastiche, monastiche e amplificano quasi sempre e amplificano le catastrofi per offrirne una lettura sostanzialmente teologica in termini appunto di castigo divino. Esse quindi ci propongono un'immagine in qualche modo distorta del rapporto uomo-natura e lo storico quando si trova di fronte a queste descrizioni deve quindi fare la tara a si fatte rappresentazioni. Al di là di questa rifrazione che noi subiamo dalle nostre fonti è tuttavia innegabile che l'uomo medievale provasse una sensazione di impotenza di fronte alla natura perché si sentiva come diceva Mark Bloch sottomesso a potenze che non possono essere disciplinate. La sensazione della precarietà della vita era conformata dall'alta mortalità infantile al netto della quale restava comunque bassa la lunghezza media della vita. Nei documenti privati di cui disponiamo attraverso fondi monastici o episcopali la maggior parte delle persone citate non ha più il padre. Si parla sempre di Pietro del Fuggiovanni o quasi sempre. Le nostre fonti sono popolate nell'alto medioevo e in gran parte ancora nei secoli successivi di orfani e di morti e di relativamente pochi superstiti in giovane età. Mondo naturale e mondo sovrannaturale non erano ancora divisi dalla linea che si andrà allargando e irrigidendo a iniziare dal pieno medioevo. Nell'alto medioevo l'uno e l'altro la natura e la soprannatura erano fatti della stessa materia e gli scampi tra questi due mondi erano considerati appunto del tutto naturali immediati perfino i fenomeni straordinari avevano spiegazioni naturali mentre a partire dal XIII secolo sarebbero stati interpretati come fenomeni sovrannaturali e il paradiso che nell'alto medioevo era ancora pensato come una sorta di giardino di enorme giardino avrebbe sempre più assunto una fisionomia nettamente spirituale pensiamo al paradiso di Dante alla sua progressiva smaterializzazione fisionomia spirituale e quindi sempre meno materiale e assimilabile quindi al reale sottoposto all'esperienza quotidiana dell'uomo che invece della materia aveva una esperienza fin troppo diretta giacques berlio giustamente invita ad abbandonare una visione troppo pessimistica del rapporto uomo-natura nel medioevo quando si parla di calamità naturali pestilenze dice berlio la volontà di sopravvivenza gli atti quotidiani ed efficaci contro le disgrazie sono stati troppo a lungo passati sotto silenzio da storici poco critici verso le loro fonti ecclesiastiche e inclini a rappresentare la paura come motore della storia davanti alle sciagure dice berlio l'occidente ha nell'insieme dato prova di uno straordinario dinamismo già nel medioevo la sfida dell'uomo alla natura si risolve all'insegna della capacità di adattamento come risposta da un limite considerato ineliminabile ma comunque affrontabile questo naturalmente ci obbliga in sede storica a considerare il rapporto uomo-natura nel corso del medioevo non come un tutto indistinto ma in una prospettiva storica quindi nella dimensione diacronica le scarse possibilità di incidere sull'ambiente naturale produssero nel corso del medioevo una serie di reazioni che possiamo interpretare alla luce della categoria perfino usurata ultimamente di resilienza il termine in fisica indica la proprietà dei materiali di resistere agli urti senza spezzarsi in psicologia la capacità di autoripararsi dopo un danno di far fronte di resistere ma anche di costruire di riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita nonostante situazioni difficili che fanno pensare a un esito negativo ebbene nell'alto medioevo ma più in generale nel medioevo l'uomo si mostra resiliente rispetto alla natura e alla difficoltà di questo rapporto con la natura l'uomo viveva un rapporto con la corporeità estremamente problematico perché era segnato dalla terribile esperienza quotidiana del dolore fisico che non risparmiava nemmeno papi e imperatori la prima e più brutale risposta alla precarietà della vita era quella di aumentare il numero dei figli perfino Carlo Magno vissuto più di 70 anni dovette rispondere alla morte di numerosi dei suoi eredi moltiplicando la propria prole è questo solo uno dei molti modi attraverso i quali nell'alto medioevo e per molti secoli ancora l'uomo si mostrò resiliente adattandosi di continuo alle sfide che gli venivano da una natura soverchiante e dalla progressiva perdita degli strumenti che nell'antichità romana avevano consentito agli uomini di conseguire significativi successi nella lotta con la natura con l'ambiente la prima difficoltà di fronte alla natura era costituita dall'impossibilità nel medioevo di misurare lo spazio e di prevederne con esattezza l'estensione il viaggiatore dell'età romana poteva quantificare le distanze leggendo le pietre miliari misurare l'estensione del paesaggio attraverso il sistema delle centurie a questa dimensione matematica dello spazio subentrò nell'alto medioevo l'esperienza della distanza e il cammino percorso si misurava in giornate di viaggio e non più in miglia anche perché le pietre miliari non dicevano più la verità non solo il viandante dovette adattarsi alle nuove condizioni ma perfino le strade romane che nell'antichità avevano per così dire violentato la natura superandone con gallerie ponti e viadotti le asperità cambiarono il loro percorso adattandosi al paesaggio quando queste strutture gallerie ponti e viadotti non erano più utilizzabili a causa della loro decadenza lo stesso accadde per le scelte insediative mentre in età romana la mancanza d'acqua veniva superata con la costruzione di acquedotti che rendevano abitabili città prive o comunque carenti di risorse idriche nell'alto medioevo tutto questo non era più possibile e i nuovi insediamenti sorti tra ottavo e decimo secolo nacquero a ridosso di boschi e boscaglie di corsi d'acqua di zone umide nella pianura alluvionale con un impatto leggero graduale con un sostanziale adeguamento alla configurazione e alle risorse dell'ambiente naturale senza trasformare radicalmente vocazione e carattere del territorio anche diceva Vito Fumagalli per la paura di porsi in alternativa con l'ordine delle realtà di natura la selvatichezza che caratterizzava il paesaggio alto medievale prima dell'agralizzazione del suolo iniziata nell'undicesimo secolo non escludeva l'intervento dell'uomo in senso assoluto ma piuttosto ne determinava l'agire entro i margini che gli erano concessi da una natura soverchiante nella quale il clima rigido e piovoso aveva provocato alluvioni retrocessione delle linee costiere avanzamento dei ghiacciai crescita dei boschi e degli spazi coperti da paludi che rendevano inutile ogni tentativo di contenzione delle acque ciò nonostante l'antropizzazione del territorio si realizzava comunque sebbene con modalità che si adeguavano a un paesaggio sostanzialmente inselvatichito per questo pure nei secoli V-VII le foreste soprattutto a sud delle Alpi non erano completamente sottratte al controllo umano al contrario spazi deserti e solitudini erano ai margini delle zone abitate e in stretta contiguità con esse meta di quotidiane di uturne incursioni di contadini pastori e di contadini cacciatori i quali erano pienamente integrati in una natura ancora troppo forte per essere in qualche modo sfidata con il IX secolo la situazione cominciò lentamente a cambiare talora per effetto della crescita del monachesimo del suo affermarsi anche se il legame tra presenza benedettina e disboscamenti è sempre più messo in discussione gli interventi dei monaci avevano infatti un carattere assolutamente puntiforme e non avevano dimensioni tali da mutare nella sostanza il paesaggio il già citato De Logu ha osservato che il contrasto con la natura selvatica non trovava nel mondo monastico dice De Logu espressione ideale nella conquista agraria degli spazi produttivi ma nella costruzione di ambienti fortemente organizzati in cui l'utilità si associava all'amenità e questa concezione dell'ambiente antropizzato come territorio eminentemente ordinato dice De Logu corrisponde all'ideologia carolingia dell'ordine razionale come finalità del governo e della cultura si trattava quindi di elaborazioni di natura sostanzialmente ideologica che impattavano scarsamente sul paesaggio nell'immediato ma che nel lungo periodo avrebbero inciso profondamente nelle pratiche di autorappresentazione e autolegittimazione del potere in relazione alla sua capacità di mettere ordine nel territorio governando proprio la natura e affermando la superiorità dell'uomo su di essa nella pratica questo però si realizzò soltanto a partire dal XII secolo anche se le radici remote ideologiche in qualche modo filosofiche di questa conquista degli spazi naturali nei secoli centrali del medioevo ha radici carolinge a partire dal XII secolo su scala europea si verifica l'agrarizzazione del suolo una sempre minore estensione delle zone incolte boschive e palustri ridotte a una funzione complementare rispetto alle aree sulle quali si concentrava l'attività dei contadini la cui funzione assumeva anche a livello simbolico un'importanza sempre maggiore nelle fonti narrative coeve si moltiplicano le notizie di alluvioni esondazioni e allagamenti tutte cose che rendevano evidente la fragilità delle conquiste dell'agricoltura pur in una fase di grande espansione economica mancavano infatti le capacità tecniche necessarie per mettere al sicuro gli spazi di recente dissodamento emessa a cultura che fino ad allora erano stati dominati da una vegetazione fitta da flussi idrici incontenibili i quali evidentemente nei momenti di piena inondavano nuovamente i coltivi mentre nell'alto medioevo tali eventi calamitosi non avevano colpito i cronisti né avevano stimolato l'attività dei legislatori perché venivano considerati perfettamente naturali e non incidevano sulle attività umane nei secoli decimosecondo e decimoterzo fonti narrative e statuti comunali dell'area padana studiati da Vito Fumagalli offrono molte informazioni a riguardo lo sgomento di fronte alla natura cresceva insieme all'illusione dell'uomo di averla in qualche modo dominata attraverso le attività agricole nei secoli XII e XIII alla visione alto medievale del rapporto uomo-natura che era stata unitaria e organica quasi che l'uomo non riuscisse a distinguersi dalla natura nel pieno e basso medioevo subentrò la coscienza della separatezza dell'uomo da un oggetto la natura appunto che egli poteva osservare la natura che da un momento all'altro però poteva mostrargli di nuovo il suo volto ostile questo avversario nell'alto medioevo non aveva neppure un nome nemmeno la cultura carolingia era riuscita a elaborare una concezione sintetica della natura come insieme organico che costituisce l'ambiente in cui si svolge la vita degli uomini l'uomo si era nell'alto medioevo considerato immerso nella natura fino a confondersi con essa e in essa negli elementi naturali le elite colte avevano cercato allegorie simboli che dimostravano la contiguità tra naturale e soprannaturale ma sancivano la sostanziale illegibilità del reale in quanto tale tutto era riversato in un'interpretazione simbolica che non riusciva a cogliere pensiamo a Federico II le cose che sono intanto e in quanto sono nel prologo del Dearte Venandi Cunabibus questa sensibilità nuova cambiò maturò nel XII secolo quando la natura assunse addirittura le vesti di una persona la dama natura cantata dai poeti investigata dai filosofi questa scoperta della natura questa sua personalizzazione addirittura ma comunque la sua oggettivazione comportarono per l'uomo la presa di coscienza di avere a che fare con una realtà esterna presente intelligibile come una compagna le cui forze e leggi chiamavano composizione o conflitto ma non più fenomeni stravaganti incomprensibili o che rinviavano a realtà sovrannaturali qui qui occorreva osservare come acutamente afferma Marie-Dominique Chenoux studiando la teologia del XII secolo le sequenze regolari e determinate dei fenomeni naturali la desacralizzazione della natura e la critica del simbolismo alto medievale aprivano le porte a una diversa declinazione della coppia naturale soprannaturale la foresta che nell'alto medioevo era stato il luogo privilegiato dell'incontro tra uomo pastore e natura in questa fase nuova diventò l'altrove orrido nel quale proiettare i disvalori la selva oscura di Dante al contempo la foresta acquistò un contenuto e una fisionomia sovrannaturali in concomitenza con il progressivo allontanarsi dell'uomo dalla natura con il suo immergersi nella cultura urbana il dibattito sulla reale incidenza di queste elaborazioni culturali sulla mentalità diffusa è ancora molto aperto certo è che una figura come Francesco D'Assisi è stata spesso ricondotta entro le coordinate di queste discussioni perché Francesco è capace di testimoniare la percezione una percezione acutissima dell'autonomia del creato e al contempo è capace di esprimere tutto questo in una perfetta sintesi esistenziale è diverso però il discorso se da Francesco pensiamo alla cultura che si è generata dai frati minori ma più in generale dall'effettivo riverbero che questa cultura riuscì ad avere nella percezione del rapporto tra uomo e natura il frate minore non viene dipinto come un uomo teoreticamente aperto verso questa nuova definizione del rapporto uomo-natura certo ci sono indicazioni circa un rapporto più sereno per esempio verso il cibo rispetto a forme o verso il vino rispetto a forme di vita religiosa più rigorose del passato e questo è certamente l'indice di una trasformazione nel rapporto tra l'uomo e la natura ma ci chiediamo davvero tutto questo è la dimostrazione della democratizzazione per così dire di un patrimonio di idee e di atteggiamenti che attraverso i fratti si sarebbero estesi ai ceti oggetto della loro cura pastorale davvero quello dei francescani fu un ordine ecologico i nostri entusiasmi sono raffreddati dal fatto che il francescanesimo non coltivò questa componente ecologica la quale ebbe un ruolo marginale nella definizione identitaria di questa nuova religio per questo risulta difficile valutarne l'impatto sulla società al contrario la crisi del 300 ci porta nella direzione opposta rispetto a questa visione positiva del creato di matrice francescana il 300 che rappresenta un indubbio inversione di tendenza la peste nera e il repentino cambiamento climatico riattivarono il circolo vizioso tra cattivi raccolti prezzi alti carestia e mortalità che avevano reso precaria l'esistenza dell'uomo alto medievale la natura lanciava di nuovo la sua sfida all'uomo che non reagì utilizzando le risorse culturali elaborate nel XII secolo al contrario prevalse il terrore del castigo divino le pestilenze carestie venivano interpretate come il risultato delle cattive condotte del peccato dell'umanità e quindi siamo di fronte a una spiritualità in cui l'ascesi e la dimensione penitenziale prevalgono nuovamente sebbene con toni nuovi ma che comunque vanno in una direzione diversa da quella tracciata da Francesco se vogliamo osservare i riverberi artistici e culturali di questa nuova temperie al tempo della peste nera è sempre utile il classico volume di Millarmis tradotto negli anni settanta in Italia dall'editrice e inaudi Millarmis Millarmis il basso medioevo consegnò essendo debitore di questa visione oscura per qualche modo del rapporto dell'uomo con la natura alla modernità una percezione negativa della natura stessa nuovamente percepita dall'uomo come un nemico indomabile fonte di sfide continue davanti alle quali egli si sentiva nuovamente impotente mentre nel dodicesimo e tredicesimo secolo l'uomo occidentale dopo averne tematizzato l'autonomia aveva pensato di poter raccogliere il guanto di sfida della natura alla fine del medioevo le pestilenze e un ambiente sempre meno governabile resero acuta la percezione dello strapotere della natura della sua immodificabilità attraverso la tecnica questo passaggio della percezione della natura da madre a matrigna interferì perfino con i linguaggi politici del 3400 a fronte di una retorica che ancora nel 200 aveva messo in evidenza il peso dell'elemento umano e procedurale nella definizione degli assetti del potere tra la fine del medioevo e la prima età moderna ebbe la meglio quella che è stata definita la naturalizzazione delle posizioni sociali e delle istituzioni di dominio in vista della normalizzazione delle pratiche di governo degli stati dinastici che si affermarono in Europa in qualche modo il medioevo da questo punto di vista ha una fine sorprendente che riedita con nuovi strumenti di coercizione vecchie nozioni come quella della naturale attitudine al governo di gruppi familiari o di popoli o di nazioni laddove invece nei secoli centrali del medioevo aveva avuto la meglio una nozione convenzionalistica del politico pensiamo ai comuni di popolo della fine del 200 italiano insomma per concludere la storia delle risposte dell'uomo alle sfide della natura è piena di sorprese così come lo è la cronologia di questa vicenda una cronologia che non disegna un progresso incessante verso la modernità al contrario ha un andamento sinusoidale che dimostra appunto la resilienza dell'uomo occidentale come già radicata in alcuni momenti della civiltà dei secoli centrali del medioevo insomma non esiste un'antinomia tra medioevo ed età moderna nel rapporto tra uomo e natura perché all'interno del medioevo vi sono momenti in cui questo rapporto veniva vissuto con un atteggiamento che noi potremmo veramente definire moderno laddove invece tra la fine del medioevo e la prima età moderna si ribaltarono gli equilibri ancora una volta la pandemia che stiamo vivendo in questi mesi ci ha colto di sorpresa gli storici non dovrebbero farsi cogliere di sorpresa di fronte a queste cose la storia serve anche a questo eppure nessuno di noi poteva prevedere quello che stiamo vivendo in queste settimane la pandemia di questi giorni ci ha svelato come la coscienza dell'esperienza umana dell'umano in sé per sé molto spesso passi dalla ineliminabile consapevolezza di un limite un limite che la natura non smette di ricordarci purtroppo nemmeno oggi io vi ringrazio e vi consiglio la lettura dei volumi di Itofu Magalli pubblicati dal mulino del libro di Milarmis sulla pittura del 300 al tempo della peste nera appunto e il volume di Wolfgang Beringer storia culturale del clima che è veramente prezioso per la serenità con cui affronta un dibattito che ci sembrava fino a qualche settimana fa centrale rispetto al rapporto uomo-ambiente e che invece oggi possiamo e dobbiamo declinare con toni e con paure del tutto nuovi vi ringrazio cinese una di cina una acá il verbario va al via la sera qui la rit